Ilaria Giuliano, moderatrice dell'incontro per la presentazione del libro dell'onorevole Martelli qua a Ricadi. Buongiorno a tutti, sì, ho l'onore di moderare questo evento, per me è veramente un vero e proprio piacere. Diciamo che per me Borsellino e Falcone, come per tutti immagino, sono figure fondamentali della nostra società e mi trovo qui a dialogare, dialogherò con l'autore, con l'onorevole Claudio Martelli. Ho letto naturalmente il libro molto scorrevole, molto interessante, soprattutto anche perché parla in prima persona, quindi ho avuto modo di scoprire il rapporto dell'onorevole a stretto contatto con il giudice Falcone. Mi auguro che il nostro pubblico questa mattina sia davvero interessato e cominci a leggere questo libro. Grazie. Grazie.